e buongiorno Davide. Buongiorno eccoci qua. Buongiorno Davide allora aperture dei quotidiani oggi molto simili c'è la prima del Corriere della Sera che fa eh questo titolo molto istituzionale emergenza rimosso Arcuri al posto del commissario nominato il generale Figliuolo per spingere sui vaccini e poi il giornale cacciato Arcuri arriva il super generale la prima di domani basta perdite di tempo Draghi licenzia Arcuri libero Mario Draghi si lura Arcuri non gli è piaciuta la sua gestione un generale dell'esercito sostituirà il commissario il titolo molto creativo del manifesto come sempre congedo militare con una foto di Arcuri che se ne va insomma la notizia l'abbiamo capita a te Davide. Sì la notizia l'abbiamo capita tra l'altro la non novità consiste nell'atteggiamento di questo paese molto spesso capita si prende una persona poi si dà il potere su tutto eh ogni tanto diceva e quest'altra c'è l'IVA e diamola ad Arcuri e così via poi a un certo punto arriva la cosa dicendo basta licenziato se ne va è una forma di le critiche se hai da farle le fai le fai le fai quando la questione è aperta adesso si gira pagina il girare pagina era necessario perché le cose non andavano ma non è questione solamente di questione di persone la faccenda è la seguente ieri sera noi abbiamo chiuso la giornata dei vaccini o poi qualcuno mi deve spiegare perché la chiudiamo ma perché non possiamo continuare anche di notte non c'è gente che gira che gira anche la notte abbiamo chiuso con avendo utilizzato solo il 69.2 per cento delle dosi a disposizione ehm nei frigoriferi ieri sera c'era un milione novecento trenta novemila ottocento cinquantadue dosi a disposizione un milione novecento trenta novemila parente di due milioni e i vaccinati fino adesso sono quattro milioni trecento cinquanta quattro mila chiaro questo o per quelli che pensano che la campagna di vaccinazione bisogna farla sempre con le liste le liste qual è il tuo turno mettiti in fila non pensa e pensano che ci siano prima gli anziani proprio hanno proprio sbagliato indirizzo perché al momento ci sono prima di tutto gli operatori sanitari e gli amministrativi e quant'altro siamo all'incirca tre milioni di persone già vaccinate gli anziani sono abbondantemente secondi arrivano un siano un milione dopo di che ci sono il personale scolastico le forze armate cioè scelte per professione per ruolo che svolgono e non è un errore avere fatto questa scelta l'errore è andare così piano e l'errore è continuare a fare conferenze stampa piagnucolose per del tipo ci mancano i vaccini no ce ne hai un milione novecento e trentanove mila ottocentocinquantadue nel frigorifero come unione europea sono state già opzionate solo in arrivo il venticinque per cento delle dosi globali prodotte venticinque per cento noi europei non siamo il venticinque per cento dell'umanità siamo solo cinquecento milioni però abbiamo il venticinque per cento delle dosi che vengono prodotte questo significa che c'è una sola cosa che devi fare tende luoghi vaccini siringhe organizzazioni convocazioni questo serve e a questo speriamo che il generale figliolo dimostri la capacità che tutti gli riconoscono in termini di logistica superando la logica delle conferenze stampa che hanno veramente avevano veramente portato a uno grado di scarsa sopportazione allora davide la notizia che riguarda i ventenni e il covid su tutti i giornali dalla stampa il giornale passando per altri comunque l'età dei nuovi contagiati si abbassa e la percentuale dei nuovi casi sotto appunto i vent'anni aumenta in modo preoccupante e già dal venticinque gennaio scorso che è sempre più alta di quella delle altre classi di età e ovviamente ci sono dei poi dati che arrivano da alcune regioni d'italia in cui questa fascia è maggiormente contagiata sono i casi di ferrara di treviso di napoli c'è un picco di positivi tra i 13 e i 19 anni miozzo del cts dice stop soltanto nelle zone rosse ci saranno delle evoluzioni e si chiude e si chiede di chiudere le scuole in queste zone a te ma intanto diciamo che oltre ai contagiati che appunto sono come tu hai letto si sono aumento dei ventenni anche presso nei ricoveri negli ospedali il che ci insegna una cosa che non è che quando quando all'inizio ti sembra che le cose stiano in un modo poi necessariamente si fermano noi all'inizio avevamo dati che ci dicevano che naturalmente esposti erano erano gli anziani e che i giovani si ammalavano molto meno se non addirittura non si ammalavano ma comunque la superavano facilmente e non è più così cioè le varianti hanno cambiato la realtà non è che dice ah ma si era detto si era detto ed è cambiato e quindi la realtà è cambiata e questo dovrebbe servire anche a dire ai ragazzi non è che viviamo in un mondo in cui i bacucchi devono stare diciamo ricoverati e ben chiusi per voi invece potete permettervi l'aperitivo la darsena l'ammucchiamento perché purtroppo la cosa colpisce i ragazzi e i ricoveri dell'ultima settimana sono sono abbastanza significativi quindi la prudenza non credo che essere giovani significhi avere meno meno rispetto della propria salute e più leggerezza sull'essere ricoverati eppure peggio guardate esempio i più giovani siamo sulla stampa per l'appunto anche qui l'apertura draghi chiude l'era conte arcuri e poi un'altra serie di fotonotizie di fatto quasi tutte dedicate alla politica estera e poi a pagina 18 lo scontro lega pd sul codice degli appalti parliamo proprio di questo con salvini che dice cancelliamolo per riaprire i cantieri davide lo ha sostenuto per la verità anche il il sindaco di firenze nardella che è un esponente del partito democratico tant'è che a quello salvini si si riferiva dicendo a benvenuto anche voi adesso siete per la cancellazione di quella roba e cancelliamola e gli ha risposto il ministro orlando dicendo diciamo non si può cancellare perché ci vuoi allora si può cancellare non si può cancellare il codice appalti destra in me un sentimento di umana comprensione nel senso che non lo difende nessuno cioè sono tutti i contrari al codice appalto probabilmente anche quelli che l'hanno scritto per cui la cosa diciamo è commovente il fatto è che è stato approvato con un è stato varato con un decreto legislativo nel 2016 è stato corretto nel 2017 ed è stato ricorretto nel 2019 risultato un caos inestricabile come come facciamo uscirne certamente non dicendoci cancelliamo il codice appalti perché ci arriva pure un bambino che che non si può fare perché ci vorrà una regola per fare gli appalti no o no e poi perché la gran parte delle regole in realtà sono dell'unione europea perché sono il ricevimento di direttive allora anziché imbarcarsi in questa roba che non funziona avendo tra l'altro le spalle anche l'esperienza purtroppo sottolineo purtroppo del ponte di genova sarebbe stato meglio che non crollasse ma purtroppo essendo crollato ed essendosi provveduto a poter ripartire subito posto che naturalmente in quel caso non bisognava scegliere dove fare il ponte ovviamente e quindi questo era tagliavo un pezzo del tragitto lo si è fatto utilizzando il codice europeo quindi le regole europee è semplice cancelliamo tutto quello che abbiamo aggiunto e l'abbiamo aggiunto perché naturalmente bisognava controllare bisognava moralizzare bisognava avere l'anac l'anticorruzione che vigilasse su tutto se lo ricordano nel 2016 quando è stata varata quella roba i nostri commenti sul ruolo dell'anac quando dicevamo che ma che razza di famiglia è quella che c'ha il garante antiviolenza sessuale all'interno cioè diciamo ma che razzi familiari c'hai un paese che c'ha l'anticorruzione che deve controllare su tutto anziché diciamo procurarsi la regolarità e all'epoca ci dicevano ah perché siete per la corruzione adesso ci cancelliamo mettiamoci le regole europee funzionano che una bellezza si prende il codice europeo e si dice noi ci adeguiamo a quello facile e risolutivo può fare anche in una settimana allora davide cambiamo argomento un presidente merito con il braccialetto elettronico questo è lo scenario senza precedenti che si apre per nicolás sarkozy condannato in primo grado a tre anni dalle pagine interne del corriere in apertura degli esteri l'ex presidente colpevole di corruzione svanisce così il sogno di ricandidarsi nel 2022 per la verità non è proprio la prima volta la prima volta che mettono e metterebbero il braccialetto ma è la seconda volta perché era già stato condannato il presidente scirac dopo la sua presidenza per questioni riguardanti l'amministrazione del comune di parigi quando lui era sindaco di parigi solo che era stato condannato due anni con la condizionale quindi la cosa era coperta interamente dalla condizionale sarkozy ieri è stato condannato a tre anni di cui due coperti dalla condizionale però ha fatto subito ricorso quindi la la pena è sospesa ed è ancora un presunto innocente il punto qual è è che la condanna di ieri si riferisce a un procedimento per eventuale corruzione di un giudice deve essere ancora dimostrato il primo grado l'hanno condannato corruzione di un giudice per avere informazioni informazioni su cosa su altre due inchieste una relativa ai finanziamenti ricevuti da dimostrarsi da gheddafi e l'altra relativa da dimostrarsi sempre il a una inchiesta sulla contabilità elettorale cioè il fatto che siano stati nascosti diciamo in qualche modo mascherati dei soldi il terzo filone che è quello per cui l'hanno condannato ieri era avere chiesto a un giudice promettendogli un posto onorario di giudice nel principato di monaco quindi c'era tutto il mondo il paese gli aveva di avere delle notizie su queste inchieste altre due inchieste che lo riguardavano che che dire ma insomma io fossi i suoi avvocati proporrei la traduzione in francese del libro di salusti e palamara in modo tale da diffondere e dire diciamo ove eventualmente il nostro assistito abbia commesso questo reato però poi rendetevi conto che è meno della metà di quello che viene illustrato dal dottor palamara il quale riceveva informazioni sulla sua la chiesta che riguardava lui medesimo dal capo della procura di roma se è vero e se non è vero devono correlarlo per diffamazione come vedete il fatto che tutto il mondo il paese non significa che sia un bel paese davide pagina quattordici del quotidiano il giornale ong indagato casarini 4.600 euro a migrante per sbarcare a pozzallo l'exeno global accusato di aver lucrato con un trasbordo ma l'organizzazione non è coinvolta allora davide allora migranti indagato casarini faceva soldi con gli sbarchi scusate se faceva soldi con gli sbarchi non l'avranno indagato l'avranno condannato perché se no sarebbe sarebbe in italiano migranti indagato casarini avrebbe fatto soldi con gli sbarchi non è una questione di di esclusivamente di lingua italiana una questione concettuale e per capirla bene dovete guardare la stessa prima pagina del giornale intervista a Renzi contro di me odio e vendetta dei pm rossi orfani di conte cioè che cosa avete sulla stessa prima pagina di un quotidiano che fra l'altro ha dei meriti notevoli nel nel campo della giustizia pensate per esempio l'intervista che ha fatto sallusti a a palamara che vi citavo poco fa cosa avete nella stessa prima pagina avete l'accostamento uno accanto all'altro c'è l'indagato che mi sta simpatico è stato assaltato dai pubblici ministeri l'indagato che mi sta antipatico e faceva i soldi e quello lì scusa ma ci sarebbe un processo ora vabbè di casarì ne porta niente e non mi sta nemmeno simpatico ma è irrilevante il concetto è o c'è una giustizia o c'è una sentenza o non c'è se continuiamo gli altri potrei citare gli altri altri quotidiani su su altre faccende in direzione opposta ma se continuiamo a dire per chi mi sta simpatico è ma non c'è la sentenza e per chi mi sta antipatico ormai è assodato già è così dai dai è inutile che perdiamo tempo questa si chiama inciviltà del diritto e per quanto sia non mi piegherò mai davide abbiamo commentato in mattinata la notizia che è arrivata da twitter che ha deciso di iniziare a etichettare i tweet fuorvianti sui vaccini riguardo ovviamente al covid-19 sugli utenti che si ostinano a diffondere informazioni distorte e ha introdotto una sorta di ammunizione un cartellino se dovessimo fare un parallelo con il mondo del calcio che gradualmente si trasformerà poi in un vero e proprio divieto dopo il quinto tweet che è ritenuto non fondato come giudici giudichi questa scelta allora prima o dopo qualcosa doveva arrivare sul mondo dei social di controllo però è un terreno a suo modo scivoloso perché parliamo del covid per esempio se io sostengo che si debbano vaccinare prima le donne e i bambini perché sono l'avvenire di perché è quando si dice bisogna salvare prima le donne e i bambini perché bisogna salvare il futuro e tu giusi sostieni che bisogna vaccinare prima gli anziani perché sono quelli più a rischio di morire e tutti e due ci mettiamo a sostenere le nostre rispettive tesi con animosità anche con tu mi accusi di voler ammazzare gli anziani io ti accuso di voler trascurare i bambini potrebbe anche assumere dei toni forti però se qualcuno ci mette i bollini noi diciamo ragazzi questa è censura stavamo stavamo manifestando due opinioni diverse se però esempio pratico ieri ricevo una copia in colla perché purtroppo i social consentono anche agli analfabeti di fare copia in colla copia in colla dicendo in regno unito dove stanno vaccinando in massa sono morte 200 mi ricordo quanto 240 persone per il vaccino con 240 persone morti per il vaccino ma uno va a guardare no e che cosa scopre scopre che neanche nel dove l'hanno copiato era scritto così c'era scritto quanti sono morti dopo il vaccino non a causa del vaccino se tu vaccini prima di tutto quelle persone molto anziane è evidente che in un lasso di tempo quelle persone diciamo per forza naturale allora quella invece ecco cos'è quella è una roba fuorviante quella è una roba ingannevole quello è un modo per diffondere terrore a cura di gente che sono degli incoscienti se lo fanno apposta per arruffare l'umanità e il sentimento diciamo l'umore dell'umanità e quello va colpito ripeto però attenzione perché il confine è molto sottile e il mio dubbio è che questo possa essere fatto dal privato che possiede la piattaforma perché si entra su un terreno piuttosto scivoloso togliamo il copia in colla togliamo il copia in colla e il copia in colla creativo il tema che penso sempre io è che è scripta manent prima perché faceva l'esempio io e te giusti discutiamo ma finché discutiamo a voce va bene è che lì rimane tutto rimane tutto davide giacalone guarderà il festival stasera nonostante gli orari che fai poi la mattina io la sera la sera leggo un poco e poi come mi abbiocco lui è un appassionato della domenica successiva al festival in cui si fa si parla del festival lui si sta preparando lo so lo sento mi piace questo snobismo di giacalone ma non è snobismo e come lo vuoi chiamare si va a riposare perché la mattina ci si sveglia presto è puro snobismo e viva dio che ce l'ha grazie davide ci sentiamo domani mattina 7 10 qui rassegna stampa buon lavoro domani mattina dormite anche voi ogni tanto